In televisione ha partecipato negli anni 50 a spettacoli di prosa e sceneggiati televisivi, fra cui il primo in assoluto trasmesso nel 1954 dalla RAI. Il dottor Antonio, ha poi fatto parte nel 1964 del cast dello sceneggiato diretto da Silverio Blasi Vita di Michelangelo. Nei medesimi anni gli ha fatto parte della Compagnia del Teatro di Prosa di Roma della stessa RAI.